A Lentini le discariche abusive nascono come i funghi. La situazione è particolarmente critica nella zona della stazione ferroviaria, dove la spazzatura di ogni genere domina la situazione. Il grave problema igienico-sanitario, tra l'altro, è stato segnalato più volte al comune, ma fino ad oggi non si registra nessun intervento. In questo luogo, infatti, vengono depositati rifiuti di ogni genere, come elettrodomestici, pneumatici per auto, vasche di amianto e così via. Il luogo, tra l'altro, non sfugge nemmeno all'attenzione degli automobilisti e camionisti che transitano sulla statale 194 Catania-Racusa, considerato che la discarica abusiva fa da cornici anche al bivio che porta a Lentini. Grazie. Grazie. Grazie.